Le isole Borrome sul Lago Maggiore e l'isola di San Giulio sul Lago d'Orta candidate come siti tutelati dall'UNESCO. Questa è la proposta lanciata dalle sezioni del VCO e di Innovare ad Italia Nostra in occasione della seconda giornata nazionale dei beni comuni. Obiettivo dell'iniziativa è affermare l'integrità dei siti e permettere la conservazione della propria bellezza paesaggistica e della propria ricchezza culturale. Già nel 2006 Italia Nostra aveva proposto all'UNESCO i territori del Lago Maggiore e del Lago d'Orta, progetto che non aveva conseguito alcun risultato. Quest'anno l'iniziativa riguarda un territorio circoscritto. Si parla infatti del riconoscimento a siti tutelati dall'UNESCO delle sole isole, un approccio meno ambizioso. Le isole Borrome e l'isola di San Giulio hanno caratteristiche morfologiche comuni, ma un patrimonio diverso. La forte spiritualità da una parte e le delizie barocche dall'altra. Si parla però di siti che, nei loro caratteristici elementi, devono essere tutelati e protetti. Organizzato per sabato 12 maggio il convegno ad Orta San Giulio, previsto per le ore 9 e mezza al Palazzo Municipale Villa Bossi. Domenica 13 maggio sarà invece allestito lo stand illustrativo del progetto all'Isola Pescatori.